amiche amici buonasera ve lo metto un po meglio il titolo del questo chiacchierio chiacchierio non si dice chiacchiericcio di questo pipiccio di questo vocaletto il titolo è estate le collane che preferisco allora l'estate mi è sempre piaciuta anche per questo ancora più colore addosso le magliette cosette che mettevo le sciarpe d'estate come facevo ci vuole il coraggio ero più giovane 30 gradi 33 gradi 35 gradi ma d'estate mica dovrebbe fare 21 gradi è l'estate vai al mare fai il bagno non prendi freddo è vero che se lavori o sei lontano dal mare io non stai in alta montagna ma anche un po più montagna diciamo rocca di papa con gli alberi ecco patisci un po e però è l'estate non è una tragedia mio padre nei lontani anni 60 in sardegna 50 gradi 50 gradi è guardate che non era la consuetudine già all'epoca arrivavano sti stati e mio padre lavorava col cannello in mano era a costruire carri ponti per la lavorazione del marmo in sardegna sicilia manco a dirvelo c'erano quelle punte alte che guai lavorava mio padre nessuna morte improvvisa né tra loro giovani né tra quelli più grandi lavoravano sodo e non c'era la ricondizionata nelle pensioni dove dovevano andare come squadre se gli alberghi l'aria condizionata pavimento dormivano su pavimento non c'erano neanche gli stuoni per lo yoga non usavano non so cosa si mettessero per terra ma penso manco niente guarda arrivava arrivava nero purtroppo poi è arrivato cieco da un occhio per una scheggia che gli ha fatto infezione poi ne è venuto fuori dopo un anno san martino di genova iniezioni negli occhi e un sacco di robe ce l'ha fatta mio padre poi ha guidato per una vita però ne ha vissuto anche mio papà quindi ecco senza tragedie è caldo ci rompiamo le scatole se non siamo in vacanza o perlomeno se siamo anche in bei posti perché io ogni volta che guardo fuori dalla finestra dico grazie ma veramente già il fatto di vedere dei tetti di coppi è una gioia già il fatto di poter avere un orizzonte così lontano e vedere le colline umbre e di vedere anche Lazio corrugato ma non perché gli giri perché qua la matura è fatta strana le colline sono lunghe strette sono proprio delle rughe delle rughe di lava e si vedono anche e si vede anche l'appennino alto alto quando non c'è foschia d'inverno vedo vedo il terminillo ma è bellissimo quindi ho già mi giro sono in sala wow nello studio ci sto poco d'inverno perché fa freddo d'estate perché adesso perché c'ho un bordello che è guai e poi perché sto facendo una disinfestazione da strani insetti che non so da dove siano arrivati ma ogni tanto la natura ce ne offre di nuovi allora ho chiuso tutto è guai che mi tocca i filati quindi oresti l'ho sloggiato ho chiuso tutto il sopra ogni stanza alla sua porta quindi ho fatto il bagno che tanto fino a stasera non lo posso lavare mi hanno detto un giorno senza toccare niente o guardate non ho sollevato polvere ho passato un panno per questioni di igiene ho lavato i sanitari senza schizzettare e domani domani lo smonto il bagno proprio dall'inizio dal soffitto devo proprio pulire i muri da quella polvere sottile del taglio delle mattonelle perché quelle che hanno messo le hanno tagliate fuori ma quelle che erano dentro il pavimento e mi ha aperto sapete la disgrazia che mi è capitata giorni fa mi ha sentito urlare come una iena ma ha chiesto scusa però ha chiesto signora mi scusi però mi ha dato anche di lei fa bene a darmi di lei e anche a chiedere scusa perché l'ha fatta grossa comunque e fuori dal vaso comunque oh il caldo il caldo non è gradevole se ci abbiamo da lavorare da sudare non è gradevole se non siamo in vacanza l'estate è fatta per stare al mare secondo me o fare delle belle camminate in montagna e poi dire uh che freddo e poi torni un po più da basso e diciamo ah adesso sì e si raccolgono cose si mangiano cose e si fanno cose dove c'è il clima giusto io adesso non riesco a fare cosa vedete sta maglietta sta maglietta ve lo dico alla laziale anche un po la napoletana questa maglietta la devo fare per mio nipote il compleanno e apri no maggio e vabbè se la prenderà ad agosto perché luglio non lo so cosa ti manca poco ma sono piena di fili mi c'impiccio e mi prendi e posa l'oreste poi mi ingroviglia tutto poi vi faccio vedere la foto dell'oreste che va a giocare a suonare l'arpa con la mia matassa di kid silk posta sull'arcolaio gli venisse un po di bene gli venisse un po di bene al mio gatto che è proprio matto adesso non so chi sta chiedendo asilo ma sparisce non si vede nei dintorni va a cercare la frescura mi torna l'ercio proprio sto gatto gli farei un bagno ma non so come no oh sono piena di energie perché ho già cenato io cena alle 18 oggi erano 18 17 58 avevo già una fame alle 5 no reggo 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 salto la merenda e passo direttamente alla cena poi più tardi mi faccio un infuso stasera voglio prepararmi un po di caffè di cicoria a mettere nel frigo nel frigor una volta lo chiamavano il frigor il frigor forse qualche marca che si chiamava frigor il frigorifero oppure com'è che lo chiamavano aspettate c'era la nonna di mio marito numero uno ma chiamavano la ghiacciaia vabbè il frigider era la parte alta quella quando è arrivata la ghiacciaia perché una volta manco quello c'era poi come dico ghiacciaia mi viene in mente una fotografia bellissima della valbrembana la fabbrica di ghiaccio bellissima un palo con delle corde adesso non ne ricordo più l'avevo fatta vedere letizia rossini la mia insegnante di tesitura la prima ufficiale diciamo e e poi mi viene in mente l'etna che non ho mai visto io da vicino ma e però so che andavano a prendere il ghiaccio insomma sulle e poi come lo conservavo non chiedetelo a me perché l'avrò letto mille volte ma me lo discordo sempre però mi affascina questa cosa le granite il gelato la sicilia la sicilia è vacanza sì forse perché l'ho approcciata in vacanza ma la sicilia io voglio viverci un anno almeno tre anni perché per capire il luogo servono almeno tre anni intanto per capire quanto tempo si socializza con gli autoctoni sperando sempre che ne rimangano degli autoctoni cioè ma siamo tutti ma anche un po di ma la storia le radici o è quello che fa il bello anche dei luoghi no poi va bene un po di però anche un po di autoctoni no proteggiamoli rendiamo la fa una protetta gli autoctoni o e le storie come si socializza in che modo sono buoni sono meno buoni sono diffidenti sono aperti ti accolgono ti aprono le braccia ti aprono la porta ti portano il caffè ti chiamano per il caffè vengono a bere il caffè da te a che imparare le cose ti insegnano a far questo a quest'altro le ricette o io voglio andare in sicilia voglio andare in sicilia ma mi ci vedete un bel negozio di filati in sicilia che venite che io voglio il salottino un negozio in sicilia che mi prepara tutto un angolo mio col salottino la teie il bollitore il caffè il cioccolato di modica le scorze d'arancia i buccellà tutto e io poi ci penso io a vendere ma perché vendere cos'è una missione non è che tu devi pensare a te appiopola qualunque ti dico che va bene tutto mi dai soldi no è una missione cosa ti serve che esperienza vuoi fare vieni qua che ti faccio conoscere vuoi andare in sicurezza vuoi provare qualcosa di aspro ma affascinante e poi parlare dei luoghi da dove vengono filati e poi preparare eventi che ne so roba divertente accogliente preparati bisogna essere preparati non bisogna dire strafalcioni è una cosa bella l'angolo della sciura lorenza poi sciura no perché poi si dice signora in donna donna lorenza donna lorenza perché no donna lorenza ormai c'ho una certa ma mi lascio crescere i capelli bianchi però li faccio blu che non fa paura il blu ci sono dei colori che fanno paura ma il blu quel bel blu come certo blu come il mio mare ligure e vado incontrare il mare o io voglio vivere in sicilia per un po almeno tre anni almeno tre anni fatemi stare a erice ma anche a palermo palermo non l'ho conosciuta è difficile come città palermo lo so però io mi ci vedo e poi mi vedo in un paesino dell'entroterra dalle montagne tra le montagne ci sono le montagne in sicilia ci sono i boschi di castagni e poi e poi promuovere la farina di carruba ho fatto i biscotti ma ve lo racconto domani sono contenta adesso prendo la minuscola andiamo a prendere l'acqua ho lavato la terrazza perché il vento fa un casotto che è guai ho messo a dimora delle piante di bieta che era lì che aspettavano boccheggianti dove le infilate qua e là guardate se crescono bene tanto ho il sedano che non cresce ma mi consolo due piante a me sono rimaste lì imbalsamate come il prezzemolo vorrei capire che razza è ma il mio vicino è uguale gli ho regalato due piantine di sedano non cresce allora proprio devo andare all'agricola dire oh ma che è una mummia insomma ma vi volevo parlare delle collane d'estate una volta mi mettevo le collane ma anche fino all'anno scorso forse adesso ancora non voglio sentire niente proprio di noi anche la pelle proprio sono sempre quell'appiccicaticcio fastidioso e non è umido è secchissimo è il momento di lavare cuscini coperte lavare i materassi dormite per terra lavate i materassi che è una bella pratica lavate i cuscini se ce la fate a casa se no andate quelle cose l'interno quella fai da te oh le collane io l'estate ho sempre messo le collane d'inverno non le mettevo mai pensate un po d'estate mi veniva voglia con le magliette di avere le collane quelle belle colorate ne avevo una meravigliosa di murrine antiche africana e l'avevo trovata a un mercatino dell'antiquariato le murrine lo sapete che venivano utilizzate come moneta di scambio e venezia si è fatta furba erano qualcosa di meraviglioso ma pesantissima quella quella ma non c'è la persona che erano fatte qualcosa di furba che poi mi si è rotta a mille pezzi e mi si è attaccata una bimbetta di casa e non mia figlia ma vabbè un po mi strozza e avevo messo anche il laccio di cuoio dentro perché il vetro è tagliente nella parte interna ma erano opache ma un colore era in fondo nero poi erano veramente belle chi me le vedeva o chi non so porta ma signora ma che bella collana lo so lo so ed estate io vestivo molto monocromatico tipo che ne so la gonna magari molto colorata e le magliette monocromatiche le fantasie non è che ho mai apprezzate tanto adesso un po più le metto però non lo so e usavo le collane varie divertenti mi prendevo le collanine quelle con le ceramiche e le prendevo alla fila di san giuseppe oppure lo so gli avevo le collane d'estate ma abbastanza si poi me le facevo le collane una volta a bottega ma adesso non sopporto più niente quindi estate le collane che preferisco queste i libri ci sono delle collane meravigliose la cosa bizzarra ad esempio la collana dei meridiani sono tutti uguali qualcuno un po più basso qualcuno un po più alto ci sono più racconti meno racconti romanzi meno romanzi insomma dipende poi da da quante pagno quanto va scritto l'autore però sono tutte la stessa altezza sono solo più spessi ci sono questi bei cofanetti dove vengono riposti questi libri preziosi che poi non proprio svenduti io mi sono salassata per comprare i miei primi l'ultimo che comprai a dei prezzi assatanati fu il gioco delle perle di vetro di armanesse e ci misi dieci anni per leggere proprio non mi entrava in testa una parola di qua usciva di là non fissavo non capivo infatti il mio libraio non me lo voleva dare ma aveva preso l'acconto perché avevo prenotato una volta stavano gli acconti quando si prenotavano i libri e quando è arrivato ci ha messo un bel po ad arrivare non te lo do ma come non me lo dà no non te lo do perché non sei pronta ma mica mi aveva interrogato ma come non sono pronta gli ho letti tutti quelli che sono usciti di germanesse ma questo per questo non sei pronta avevo 19 anni ma santa pace gli diceva però anche vergognosa timida mica c'era tutta questa confidenza col mio libraio cioè io l'adoravo quell'uomo ma lui mi sapeva un accidente chiaro io almeno credo niente me l'ha dato dopo un mese e mezzo era lì e questo è il tuo non lo do nessuno ma non sei pronta a me non mi avesse dato dei compiti ho comprato anche il mio primo garcia marquez da lui il cento giorni di solitudine e guardate leggevo quanti libri a settimana a settimana non dormivo un picchio guardate dai 19 anni ai 21 credo di aver dormito un'ora notte perché stavo fino a tardi a chiacchierare con i miei amici quando sono andata a stare con mia nonna casa mia coprifuoco il sabato a domenica non si usciva e se fuori tutta la settimana si a lavorare e basta si stava guardate ma non mi dicono i genitori giovani che fortuna e prenda pizze e insomma quando sono andata a stare da mia nonna io finalmente potevo vedere quasi liberamente perché studiavo cioè c'era da prepararmi per i miei corsi insomma andavo da fare un'impegnata e studiavo musica ma quante ne ho fatte in quegli anni ho fatto tanto andavo ad acquagin andavo in piscina suonavo studiavo musica frequentavo i corsi che devo frequentare per il mio lavoro quindi ho fatto i corsi unfas all'accademia para poco ho fatto tanta roba e leggevo un sacco leggevo la notte non volevo dormire e la mattina mi trovavo prestissimo con una mia collega per fare la maglia quindi già dormivo poco però non vedevo l'ora di andare giù perché lavoravamo come delle matte a maglia e perché ci piaceva un sacco c'era stato il boom proprio tra la fine dagli anni 70 ai primi anni 80 dei filati firmati no i missoni vado a comprare davano le etichette no questi tuoi missoni eravamo gasatissimi spendevamo un botto di soldi nei filati mamma mia c'ho mai soldo da parte ero sempre a spendere per libri e filati più libri però devo dire la verità ero iscritta al club degli editori avevo un sacco di abbonamenti ero iscritta psicologia contemporanea a leggere a raccam ma un altro a scienza scienza aspettate due riviste di scienza poi manco me le ricordo un sacco di abbonamenti io li buttavo lì i miei soldi mia nonna mi tiravo le scarpe dietro questi soldi c'ho ragione povera nonna però ero stati gli anni felici quelli devo dire i miei tre anni felici e i libri mamma mia le collane quindi quella è stata la mia prima collana ma ne ho altre collane che adesso non ricordo camilla il battello a vapore anche lei l'avevo portata sulla buona strada della lettura leggeva tantissimo la camilla da bambina adesso sta ricominciando a leggere e ieri sera sono stanca domani mattina ce lo scarico ma faccio un po di uncinetto a letto brava 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 mamma sono contenta così sì e quindi collane di libri ce le hai ce le ho avute ce l'ho quella carina che non ho potuto terminare perché a un certo punto non sono più arrivati al mio edicolante sapete queste cose che succedono che poi ve la faccio vedere quella collana di libri perché è bella ce l'ho qua in sala da pranzo perché in sala da pranzo il tema è la cucina il cibo il benestare il benessere grazie al cibo qui ce l'ho ce l'ho qua c'è un sacco di libri qua e di riviste di tutto è dedicato al cibo quindi anche i romanzi la letteratura cibo c'è qualche tipo caffè amaro della horby tipo un filo d'olio della medesima qua stanno bene e qua stanno anche loro tre o adesso ve lo faccio vedere bene il primo ma una collana dice ma sono tutti e tre diversi lorenza guardate sono proprio diversi questo è un po più piccolo di questo e questo è più stretto di questi ma è più alto sono tutti colorati hanno titoli diversi non trattano lo stesso c'è solo un titolo un pretitolo non so come quello che determina la collana cioè quella parte di titolo che fa capire che è una collana ma adesso non ve lo dico poi ve li svelo sono bellissimi e ne sono usciti già tanti e io sono contenta perché la mia attuale libreria io mi sposto quando non mi esaudiscono che mi trattano male che trattano male le persone che vanno trattano male in generale quando non si è preparati quando si è approssimativi quando si dicono le bugie sapete quelle stupidaggini che poi le sgamate no no è successo che proprio non sono più ristanti no perché c'è un problema la casa editrice poi andate dall'altra libreria sì ma sì ce ne sono 100 disponibili al distributore ma tonti che poi ci rimettono pure le 20 allora la mia attuale poi speriamo a me è che io mi innamoro delle io sono una fedelissima delle librerie se mi trattano bene non che mi devono stendere i capiti rossi nel senso che non mi devono prendere in giro mi devono dire mi devono attrarre mi devono lasciare in pace mezza libri ecco le librerie giuste sono quelle che ti lasciano andare che ti anzi ti spingono ma faccia guardi e che vedete belle facce sorridenti persone preparate le persone che vendono libri devono saperne più di noi devono aspetta un po questo non lo conosco ora mi informo ed è vero nel senso che vedete l'amore che sorpresa mi hai dato questa e poi vi dicono grazie sono bellissimi che non le avevano ancora approcciate ma sono tanti libri e ogni libreria credo che abbia un proprio indirizzo quella che sto frequentando e soprattutto una libreria dedicata a libri scolastici sono promuovono libri per la scuola primaria ma c'è di tutto è ma belli mi hanno incantato il gusto poi nel preparare le cose io lo guardo come vengo perché il libro è un oggetto meraviglioso il gusto come dire hai vendi ceramiche le metti in fila così senza anima no oppure vendi ceramiche le metti in calcattivanti hai un tuo modo di esporre perché senti che sono belle credi in quello che vendi no e allora le metti nel miglior modo a tuo gusto che magari non potrai incontrare quello di tutti però si avverte l'amore l'amore si deve avvertire l'amore anche soprattutto in chi vende libri che è un lavoro meraviglioso difficile perché adesso tutti acquistano online perché se non lo ricevono il giorno stesso muoiono poi magari non li toccano per vent'anni a me piace aspettare io vado in libreria se la libreria mi accontenta e non mi costa di più non devo pagare spese di spedizione poi se è un libro raro che ci pensa la libreria a sbattersi è certo che gliele pago le spese di spedizione ma salvatore anche un sacco di tempo però questi libri cioè i libri dove noi non ci mettiamo proprio ma perché non possiamo aspettare un attimino magari siamo vabbè in vacanza lontano il corriere te la porta anche dove sei ti serve e va bene sono mica un estremista è bello ricevere anche i libri ma io mi rompo perché mi sento sempre agli arresti domiciliari coi corrieri sai mai quando arrivano sono sempre all'ultimo giro e se mi muovo con minuta a vedere che succede sempre sono alla campana ecco sono uscita un attimo con minuta non mi muovo un attimo da casa ti arrivano l'ultimo giro della sera e faccia un corriere che mi saluta sempre come va signora e guarda che prima o poi ti chiamo che ho da spedire della roba o santo cielo e quindi vado a libreria io amo andare in libreria perché libreria ce l'avete lì li potete sfogliare se non sono cielofanati e se non c'è un divieto ed è bello vedete la copertina poi io così abbiamo un rapporto così ci attraiamo vicendevolmente quei libri e quindi e quindi sono contenta mi sono ordinata un libro il libro è arrivato tempo pochissimo tra l'altro l'ho fatto aspettare un attimo perché ero io che non potevo andare e viterbo non ce l'ho dietro l'angolo e quindi però me lo tengono lì io ho già detto mi sono ordinata due libri ma arriveranno quando arrivano arrivano ma io ho detto la prossima settimana non posso che sarà questa perché c'è il delirio a casa inutile quando aggiusto un knit cafe qua da me riuscirò a fare ma sono proprio persa sono stanca devo fare tutto e qui sappiamo anche quando sarebbe finito il bagno quindi questa settimana no ma come arriva ma arriva il messaggio io la prossima settimana vado vado e mi prendo i miei libri o quando arriveranno non importa ho fatto una lista ragazzi c'è una lista proprio di desideri io ho detto non compro più libri a meno che non sia strettamente necessario perché quando avete dato l'addio a casse e casse di libri che sono dal vostro cuore i vostri i vostri danè tra l'altro i sacrifici sono stati sacrifici ecco distrutti da un crollo da una parte da un incendio quindi da un allagamento per l'incendio dall'altra e alzo le mani vuol dire che non ne devo però ho detto no a meno che e quindi vado in biblioteca io in biblioteca o veramente se vi sei dovuto pagare tutto quello che ho letto in biblioteca in quegli anni di vita castellana a rocca di papa davvero pensavo noi stessi preparando una tesi ve l'ho detto eh no a un certo punto abbiamo aiutato anche camilla con alcuni titoli quando stava preparando la sua però no no io proprio sull'alimentazione tutto quello che c'era di interessante fornito dal consorzio delle delle biblioteche dei castelli romani a roma con una bella tessera che costava poco di più di quella normale si aveva il diritto di poter usufruire di questo servizio di scelta o di ricerca di testi presso tutte le biblioteche che facciano parte fanno parte del consorzio quanta roba da tutte le parti mi è arrivata ho letto tanto ho studiato tanto ma di alimentazione di storia dell'arte ma quante cose quante cose meravigliose quante 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 io sono felice sto in mezzo ai libri sono felice come quando sto in mezzo ai filati ecco però non mi hanno mai venduto delle sole di libri le sole di filati sì difficile dire questo è un meridiano originale e poi invece aprite dentro cosa c'è carta igienica che ne so o pagine scritte a mano con una pessima calligrafia quella è una sola no fuori c'è un guscio e poi è come il lino questo è lino pure 100 per cento tu sorella a sorida così senza offesa è proprio così quasi un intercalare arrabbiato ligure romanesco a sorida proprio romanesco vabbè e sì quello lino ha visto passare lino ha fatto ciao come le caprete ad aidi va bene e allora poi ve ne parlo di questa meraviglia perché volete fare un bel regalo siete ospiti in casa di qualcuno sapete che non sta bene portare del vino in casa siete ospiti a cena al vino ci pensano i padroni di casa perché a meno che non ve lo chiedano espressamente perché sanno che voi potete passare da un'enoteca o avete una cantina super mega wow siete proprio degli esperti vi dicono il menù è perché il vino dipende dal menù a meno che non portiate un vino più che particolare se sapete che i padroni di casa possano apprezzare sono i vini da meditazione tipo il vero shaketra quello non ha niente a che vedere col menù perché lo si lascia ai padroni di casa che lo godranno nei loro momenti di relax durante la lettura di un bel libro davanti a un bel paesaggio o anche a un poster basta che sia bello quello che sia davanti e che si sia un ambiente sereno se non sarà sereno si rasserenerà allora quello sì non si porta il vino manco il dolce perché dovrebbe far parte del menù però se sapete che la persona è golosa come mi portate tutti i dolci anche lo zucchero va benissimo ti ho portato un pacco di zucchero che ne so l'ho fatto io come volte lo faccio l'ho fatto io con le pettere di rosa ah un regalo meraviglioso quella è un'altra cosa rispetto alle passare oppure passo da esposito porto i cannoli che ne so esposito e babà se no vado da salvatore ti porto i cannoli la ricotta ce la mettiamo a casa però ci dà tutta la farcia ma vai pure da salvatore che ti aspetto ti metto pure il tappeto siciliano va bene ecco così abbiamo parlato un po basta dai vi saluto vi lascio vado porto fuori la minucca non ce la fa più adesso è sul cuscino per terra vado a prendere l'acqua per annaffiare fontana c'è scritto non potabile quindi a che cosa serve se no per mantenere l'ecosistema è una stupidaggine non annaffiare è veramente una stupidaggine pensateci perché il deserto fa bene per non creare i deserti bisogna coltivare per coltivare bisogna anche sono anche dei modi per irrigare senza annaffiare coltivare senza annaffiare perché ci sono tutti dei sistemi che vi procurano l'umidità la canalizzano dove serve sono un sacco di cose interessanti l'avete letto la rivoluzione di del filo di paglia di fukuoka cercatelo in rete è gratis ciao